La cosa che spero vi piacerà di questo nostro Olden Start è che si cambia, diciamo, rapidamente, si salta da un mondo all'altro. Questa mattina, diciamo, avete sentito un dialogo sulla traduzione, no? E avete incontrato due ex allievi, perché anche Alessandro Maria ha studiato qui a scuola, la vecchia Olden. In questo caso, invece, voglio ringraziare tanto per averci detto sì, Marco Petrucci. Un applauso. È un grafico, molto bravo, è conosciuto soprattutto per il suo progetto di, diciamo, di testi manifesti. E io sono estremamente, insomma, curiosa di ascoltare quello che ci racconterà, vi parlerà, come dice il titolo, proprio di questo. È una cosa molto bella che mi ha detto, insomma, prima di iniziare, perché è uno dei pochissimi ospiti di Olden Start da quando esiste, che fanno questa cosa molto bella di venire a sentire la lezione che precede la sua, di ascoltarla tutta e di esserci. E giustamente diceva, in realtà, anche io in un certo senso continuo a parlare di traduzione, no? Traduzione, questa volta, di parole in immagini o di composizione, diciamo, di ricomposizione. Quindi, insomma, ti cedo la parola e grazie che sei qui, anche se non ti abbiamo neanche fatto finire di bere lo spritz. Ciao ragazzi e ciao ragazze. Direi grazie di essere venuti, però sono io ad essere venuto da voi questa volta. E allora, come ha detto lei, io sono Marco, sono un grafico, non so scrivere e ho mollato il giovane Olden a pagina 23. Grazie. Questa è come confessione iniziale doverosa. Scusate, ha spaginato la scritta gialla. Allora, il sottotitolo che ho dato alla mia presentazione è Corso di approfondimento sul manifesto come oggetto grafico di comunicazione personale e collettiva. Perché il progetto che mi sono trovato ad inventare una decina d'anni fa, che si chiama Testi Manifesti, mettete mi piace, invitate gli amici, parla proprio di questo. Io utilizzo il manifesto che, nella sua normalità, è un oggetto di comunicazione pubblica e non mi sono trovato, senza accorgermene, a trasformarlo in uno strumento di narrazione personale. Ma che cos'è un manifesto? Volete provare a rispondere? O siete troppi con l'assetto pubblico? Allora, vi dicevo che non so scrivere, no? Quindi sono andato sul dizionario e ho copiato e incollato. Manifesto Foglio di carta più o meno ampio, che si affigge sui muri delle strade o su sostegni fissi appositamente collocati, per rendere noto a tutti ciò che vi è stampato. Anche avviso o annuncio pubblicitario su foglio o cartellone, molto ampio, spesso con disegni a colori vivaci, atti a richiamare l'attenzione del pubblico, che si espone anch'esso sui muri delle città, all'interno di locali aperti al pubblico o entro riquadri a ciò predisposti, lungo alcune vie di comunicazione. Ecco qua. Allora, vi ho messo qui tre manifesti per farvi capire un po' di che cosa stiamo parlando. Il primo è un manifesto, mi viene da dire, classico. I manifesti servivano a portare la gente a teatro e fanno un lavoro, questo manifesto in particolare e comunque i primi manifesti teatrali, fanno una narrazione registica. Chi di voi ha presente l'incipit dei Promessi Sposi? Ok, uno su 90, quanti siete? Due. Allora, nell'incipit dei Promessi Sposi c'è quello famoso pezzo che viene descritto come una telecamera montata su un elicottero che piano piano zoom, dal ramo del lago di Como si infila man mano fino a zoomare su Don Abbondio che sta camminando e poi comincia la storia. Il primo manifesto che vi voglio far vedere oggi è quello lì di Udini. Voi immaginate di essere dei tizi di fine Ottocento che vanno a vedere il più grande prestigiatore del mondo a teatro. Questo qua che si libera dalle catene, no? Avete presente cosa faceva Udini? E cosa aveva di particolare vedere dal vivo Udini a teatro? E che lo vedevi piccolissimo. Questo qua si liberava dalle catene ma tu non ti accorgevi di niente. Quindi il manifesto cosa fa? Zoom sulle mani e sulle catene. Ti fa vedere prima che tu possa andare a teatro da vicino i mega catenoni di acciaio che tu a teatro poi ti immaginerai solamente. Ovviamente un manifesto dipinto, eccetera, eccetera, perché è dell'Ottocento, ma ci arriveremo. Il secondo, chi di voi non ha mangiato un pollo allo spiedo in un posto dove c'era questa scritta qui fuori? L'avreste mai chiamato manifesto, una roba del genere? Ma vi assicuro che lo è. È una cosa italianissima quella scritta a Pogli allo spiedo. È come un piatto di spaghetti o un bicchiere di vino. Sono le scritte adesive che si comprano, si compravano dal ferramenta, che il negoziante di turno poteva usare autonomamente per raccontare la sua storia, ovvero che fa e vende Pogli allo spiedo. Il terzo è un esempio di un manifesto d'artista con un messaggio poetico. Le Nazioni Unite hanno chiesto a un grafico negli anni Ottanta di fare questo manifesto per la pace e non penso che io vi debba spiegare niente sul significato. Tra l'altro mi fa piacere farvelo vedere in questi giorni che, insomma, ce n'è bisogno. Vi faccio un po' l'Alessandro Barbero della situazione. Andiamo indietro nel tempo. Chi conosce il latino? Allora, questo qui, questo pezzettino di intonaco è fondamentalmente uno dei primi manifesti che sono arrivati fino a noi. È una scritta sul muro di Pompei, quindi nel 70-78, mi pare, dopo Cristo. È un manifesto elettorale, scritto direttamente sul muro. E vedete quella roba lì alla fine? R, P, U, B, O, U, F. Vedete, ci sono le lettere con un pallino al centro. È tutta una roba con elenco, come se fosse tutte iniziali. Quella roba lì, non vi leggo neanche il resto e vi risparmio il mio pessimo latino perché ho fatto il liceo artistico. Quella P, U, B, O, U, F vuol dire che è una brava persona. Il senso è, votate Helvium qualche cosa come Edile, a Edile si legge, perché è una brava persona. Immagino che vi sia capitato di leggere non più di un mese fa sui manifesti elettorali votate Tizio, votate Caio, perché è una brava persona. Quindi non scopro l'acqua calda che vi dico che dal 70 dopo Cristo al 2023 dopo Cristo la comunicazione politica sui manifesti non è cambiata neanche di una virgola. Anzi, all'epoca si potevano permettere di omettere le parole e metterle come elenco puntato perché lo sapevano tutti che è U, B, O, U, F voleva dire che è una brava persona. Facciamo un salto lunghissimo. Grazie, ci avevo l'ansia ho detto forse sono troppo giovani per il meme di SpongeBob. Questi sono due manifesti antichissimi sono proprio il papà e la mamma del manifesto contemporaneo. Questo forse l'avete visto sui libri di storia dell'arte l'anno scorso. È un manifesto del Moulin Rouge dipinto da Henry Toulouse-Lautrec ovvero nell'Ottocento come ho detto prima dovevano portare la gente a teatro ma i grafici non esistevano esistevano i tipografi e gli impresari l'impresario del Moulin Rouge sapeva che un tipografo non era la persona giusta per portare la sua clintela al Moulin Rouge quindi ha chiesto a un pittore di fargli un manifesto. E un pittore non è un grafico anche se era un genio quindi si è barcamenato ha fatto una sorta di quadro dove però c'è inserito anche le scritte. E le mie parti preferite di questo manifesto sono quelle che di solito la professoressa e il professore di storia dell'arte non fanno notare ovvero avete presente la battuta questa è una roba un meme da grafico che i grafici si sentono dire dal cliente mi fai il logo più grande no? Qui lui invece di fare il logo più grande ripete la parola Moulin Rouge tre volte no? che è una roba molto ingenua però ho detto come faccio a dirlo a farlo capire bene che è il Moulin Rouge e lui ha pensato agli strilloni coi giornali per le vie di Parigi che dicono Moulin Rouge Moulin Rouge e quindi l'ha scritto tre volte e l'altra cosa che mi commuove è che dopo che lui l'ha consegnato il cliente l'impresario il proprietario del Moulin Rouge ci ha detto scusa ma mancano un sacco di scritte e lui le ha dovute mettere sopra no? che è un po' come una roba che ci troviamo spesso a fare noi grafici che finiamo il lavoro e poi il cliente ci dice no ma aggiungi questo quest'altro e quest'altro no ma non hai messo bene la via e invece quest'altro sembra più antico ma in realtà è molto più moderno dal punto di vista tecnico e gli americani sanno vendere no? e questo è un manifesto che parla dell'invenzione di un mungitore meccanico per vacche e non ve lo dico neanche nel selvaggio West non c'è scritto non c'è scritto wanted ma praticamente è un manifesto ricercato del selvaggio West che cosa ha di particolare perché ve lo sto facendo vedere e voi avete presente che cos'è che cos'era la stampa caratteri mobili ve la rassumo velocemente sono quei cubetti di piombo con la lettera incisa sopra con cui si compone si componeva la pagina e all'epoca di questo manifesto i libri erano fatti così come Gutenberg c'era scritto appunto quel ramo del lago di Como tutto a specchio poi si metteva il foglio sopra si premeva e veniva fuori il libro e che cosa hanno di particolare queste lettere queste lettere qua sono alte 30 centimetri immaginate quanto possa pesare un lingotto di piombo per fare una doppia V così non si poteva fare a un certo punto a Boston un tizio ha inventato un modo per fare le lettere di piombo ma di legno quindi sono più leggere quindi costano di meno ma soprattutto con il legno puoi fare le scritte grosse e quindi possiamo dire tranquillamente che il manifesto moderno nasce insieme alle scritte fatte di legno le scrittone grosse fatte di legno e voi capite che è nato un nuovo modo di narrare le cose no e un io lo mi piace chiamarlo un urlo silenzioso perché qua c'è una persona che ti sta gridando mungitore per vacche fortissimo nell'orecchio però non sta dicendo niente a nessuno però è un urlo potentissimo questo qui quindi è nato un nuovo modo di comunicare che fino al giorno prima diciamo così non esisteva se non con lo strillone il tizio proprio che urlava davvero chi non lo conosce allora dopo i primi tentativi dell'ottocento tutti commerciali la politica dice ah cazzo i manifesti sono utili per dire le cose alla gente e diciamo che da questo punto di vista la prima parte del novecento non è stato un momento felicissimo questo manifesto secondo me poi ditemi voi mi viene da dire è il manifesto più famoso del mondo che cosa di particolare io non ve l'ho non ve l'ho fatto vedere perché è il manifesto più famoso del mondo anche perché non ce ne sarebbe stato bisogno questo è un manifesto per invogliare i ragazzi americani ad arruolarsi nell'esercito e andare a venire a morire in Europa durante la prima guerra mondiale c'è un car armato c'è il verde militare c'è un'esplosione no è il manifesto di un circo perché l'autore che è stato chiamato a farlo era un pittore specializzato c'è il nome qui Montgomery Flage era un pittore specializzato in manifesti da circo disegnava clown disegnava elefanti tigri e non so se avete visto Dumbo il direttore del circo di Dumbo colorato da bandiera americana e approfitto di questa scritta per dirvi una cosa che cos'è il grafico che lavoro fa il grafico io arrivo dopo che voi scrittori avete finito il vostro lavoro avete finito il vostro word fate ctrl s se usate windows mela s se usate mac salvate e mandate il vostro word in casa editrice finito consegnato e la casa editrice lo manda un grafico che lo trasforma in un libro che poi vi arriva a casa e che cosa fa in parte il grafico qui si vede molto bene a me mi piace dire che il grafico è un attore il grafico interpreta con la sua voce visiva una frase scritta da qualcun altro e in questo caso lo vedete come l'accento viene sul te su you no è proprio io ti voglio dire te non sto parlando con voi sto parlando con te quindi vedete come le lettere sono un attore silenzioso e nell'intervento di stamattina si parlava del suono della musicalità delle lettere delle parole noi grafici ci mettiamo un ulteriore livello come si diceva di traduzione allora ma vi piace questo qua cioè non lui eh allora vi volevo parlare ho messo questi due in un'unica slide per parlarvi di una roba che si chiama totalitarismo che vuol dire che la classe dominante non solo decide la politica eccetera ma decide tutto decide anche come bisogna comunicare in una pubblicità delle matite vedete che cosa rappresentano quella quelle matite tutte insieme è un fascio littorio anche molto figo graficamente devo dire però vedete come i cattivi no perché io mi piace parlare della prima parte del novecento come il periodo in cui hanno comandato i cattivi no si sono infilati fino alla alla vendita delle matite l'autarchia è una cosa terrificante è un modo di pensare vecchissimo come tutti i totalitarismi cioè non siamo nell'impero romano anche se ci pensiamo sempre e no è una cosa vecchia la democrazia è una cosa relativamente moderna è un modo di pensare moderno e la cosa figa di questi due manifesti passatemi il termine e che rappresentano idee decrepite terribili insostenibili ma sono graficamente mostruosamente moderni guardate quanto è strano a parte questo baffetto che effettivamente è strano però un politico attuale non si sognerebbe mai di dire metti solo il mio cognome e la mia faccia perché dice no metti il nome del partito metti il logo del partito ci metti la X sopra ci metti la matitina con scritto il 25 maggio vota così con la X e mettiamoci anche sono come te insieme a te per vivere meglio no però da idee forti vengono fuori grafiche forti perché Adolfo ha voluto questa grafica così perché questa qui vi contestualizzo un attimo questo è esattamente il manifesto elettorale di quando Hitler concorreva per diventare cancelliere della Germania quindi la prima volta che fu eletto fondamentalmente qualche anno dopo lui pensò di voler diventare o in parte per alcuni lo diventò un dio ma quando ha fatto questo manifesto non pensavo ancora di arrivare a diventare dio ma guardava i divi non c'è bisogno di dirvi che divo e dio hanno la stessa radice come parola etimologica all'epoca negli anni 30 o meglio alla fine degli anni 20 fondo scuro e testa ritagliata era come si mettevano le foto dei divi americani sui poster dei film quindi lui ha detto io così lo voglio 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 che la mia faccia sia come quella di Humphrey Bogart e compagnia bella già ho i capelli e i baffi come Charlie Chaplin voglio anche essere rappresentato come un divo di Hollywood e poi qualche anno dopo dirà che Hollywood era un covo di ebrei vabbè ma quella è un'altra storia tra l'altro trovo molto commovente la voglia del grafico di mettere quella R così perché proprio gli sembrava troppo pesante questa cosa qua quindi guarda un ricetto ce lo metto allora prendiamo un po' fiato adesso e perché ho fatto questo salto di 30 anni conoscete questo manifesto l'avete mai visto ok è sempre la faccia di una persona no è uguale Hitler Bob Dylan uguale c'è il cognome e c'è la faccia c'è il cognome e c'è la faccia ma racconta tutta un'altra cosa che cosa è successo nel frattempo il manifesto non racconta più la voce di una persona ma racconta la voce di tante e la persona rappresentata è solamente il tramite per raccontare i pensieri e le voci di tante persone che la pensano come lui quindi il volto diventa secondario sparisce l'importante è il pensiero no il pensiero multiplo multiforme no che diventa un'acconciatura unica fatta di pensieri quindi guardate come con degli elementi abbastanza simili cioè sono ripeto la testa e il cognome si possono raccontare due cose completamente diverse ma diametralmente opposte e quindi adesso finalmente comincia per il manifesto la parte bella il manifesto finalmente è dalla parte dei buoni rispetto alle altre cose che vi ho fatto vedere che cosa ha di particolare questa immagine ve lo dico io si vede la persona che mantiene il manifesto perché ho scelto non perché su google non c'era l'immagine ma perché qui la persona che porta il manifesto è fondamentale quanto il manifesto stesso fa parte del manifesto io sono un essere umano non ha senso attaccato sul muro ha senso solo se a portarlo è un essere umano insieme a lui migliaia di persone insieme a lui quindi il manifesto dopo essere diventato una voce rappresentativa di una comunità come abbiamo visto prima diventa la voce di ognuno ovviamente il manifesto è una scusa raga cioè non è un oggetto grafico però è un tono di voce in questo caso no io non non è non sto facendo volantinaggio con un volantino sui diritti dei neri negli Stati Uniti negli anni 50 io mi sono stampato un cazzo di manifesto e lo porto in giro sul petto perché e ritorno a quella a quell'esempio che ho fatto prima è un urlo silenzioso veniamo un po' in Italia negli anni 60 il fatto che come vi ho detto prima diventa la voce personale il manifesto qui vi faccio vedere quanto diventa personale ovvero che ognuno si fa il suo questa roba qui che vedete sono esattamente i e canva degli anni 60 qualcuno aveva un amico tipografo va in tipografia e dice guarda martedì 28 maggio stiamo organizzando lo sciopero generale vedi tu questo è il testo vedi tu che lettere ti avanzano mi fai un manifesto al volo per favore oppure un altro c'è un amico che sta a disegnare neanche benissimo però e no oppure che sa fare un'incisione oppure un amico vignettista no quindi diventa veramente il manifesto casereccio perché il manifesto diventa la strada il mezzo con cui raccontare le proprie idee urlarle urlarle no questo mi piace tantissimo perché ne hanno stampato uno e poi hanno lasciato vuoto il luogo e la data no perché poi ognuno si scriveva col pennarello o col pennello e lo completava quindi vedete come diventa piano piano un modo di raccontare completamente intimo e personale no in questo caso sempre parla comunque di una comunità però diventa personale rispetto al manifesto di Hitler di prima che era uno che ti parlava dall'alto e che cosa succede alle cose belle di solito che arriva arriva che i soldi le rovinano non so quanti di voi hanno mai visto questa pubblicità adesso immagino suoni adesso non sarebbe neanche uscita dalla testa del creativo una cosa del genere siamo secoli a secoli di distanza da un'immagine del genere spero non lo so ve la racconto un attimo è una campagna pubblicitaria per un paio di jeans la foto è di Oliviero Toscani che se non lo conoscete è un fotografo molto importante che negli anni 70, 80 e 90 curava la comunicazione della Benetton per una marca di jeans che si chiama lo vediamo sulla cinta si chiama Jeans Jesus temo che alcuni di voi abbiano avuto un'educazione cattolica quindi a catechismo a un certo punto avete sentito che Gesù ha detto chi mi ama mi segua devo aggiungere altro no? e questo è un caso fortunato nel senso è un manifesto pubblicitario commerciale quindi il manifesto che dopo tutte queste ultime belle cose è ritornato in mano ai cattivi però perlomeno al netto del sessismo ai nostri occhi degli anni 2020 è un piccolo capolavoro narrativo no? io lo vedo muoversi mi viene di seguirlo ok? più di comprarmi jeans per fortuna dopo questo momento commerciale tra gli anni 80 e 90 un po' per colpa dell'arrivo del digitale il manifesto smette un po' di essere il principale strumento di di racconto commerciale viene riscoperto il manifesto politico attivista di una volta questo lo conoscevate che cosa ha di particolare questo manifesto uno diceva beh il manifesto di Obama come il manifesto di Hitler ha due cose di particolari differenze rispetto a quello di Hitler uno è di letterario mi piace dirlo in questa sede come si dice non c'è più il nome ma c'è un augurio come la potete chiamare quella parola no? c'è un'idea di futuro e l'idea di futuro non è più Hitler ma è speranza indipendentemente da chi no? è come dire Obama diventa il primo passo nella speranza non fate battute su come è andata a finire perché adesso noi siamo due presidenti dopo Obama però all'epoca sembrava sembrava veramente tanto speranzoso la seconda differenza è che questo non è il manifesto di Obama ma il manifesto che ha fatto un artista di sua spontanea volontà conoscete la marca Obey è lo stesso che ha inventato la marca Obey che ha fatto questo qui era giovanissimo ai tempi quindi è un artista che ha detto io credo nella speranza metto la mia arte a servizio di questa speranza e faccio questo manifesto quindi non è il manifesto ufficiale di Obama ma è un artista che l'ha fatto per conto suo quindi non è più il politico il potente che dice mi fai il manifesto bello che devo essere eletto ma è il contrario è uno che è talmente preso a bene da un'idea da donare la sua la sua arte quanto ci ho messo a dirvi tutta sta roba una mezz'oretta va bene ok fine lezione di storia dell'arte vi parlo di me cioè che cosa ci faccio io in mezzo a tutta sta roba a tutti questi manifesti da Pompei a Obama eccetera allora come vi ho detto io sono un grafico il grafico fa parte della grande famiglia dei mestieri creativi il fumettista il musicista l'illustratore lo scrittore e i mestieri creativi hanno una serpe in seno come si dice hanno un dente avvelenato la maggior parte delle persone che fa un mestiere creativo il suo mestiere spero sia così anche nel vostro caso o meglio che sarà così nel vostro caso il mestiere combacia con la passione cioè tu non troverai mai un pittore che odia dipingere è chiaro che se uno si mette a fare pittore vuol dire che la sua passione è dipingere la sua passione è scrivere la sua passione è suonare però che succede che è un lavoro e durante le ore lavorative quelle che vi permetteranno e mi permettono di pagare l'affitto o il mutuo un lavoratore creativo l'80% delle volte guarda quello che ha fatto e dice mamma mia la monnezza che ho fatto io non solo non mi piace ma mi vergogno anche a farla vedere la roba che ho fatto no? succede succede un po' a tutti no? quelli che fanno dei messieri creativi non sempre puoi essere uno scrittore affermato magari ti ritrovi a fare il correttore di bozze di foglietti per le medicine per esempio no? però che cosa hanno? hanno un'arma nella nella fondina i lavoratori creativi ovvero si sta staccando il filo ovvero dopo aver fatto la monnezza in ufficio tornano a casa vabbè se siete epilettici guardate in basso se un illustratore ok in ufficio ha fatto tutti i disegni che non gli piacciono torna a casa prende il suo album da disegno e disegna Spider-Man lo scrittore che si ritrova a scrivere foglietti per le medicine torna a casa e si rimette al lavoro sul suo romanzo della vita che prima o poi presenterà in casa editrice un musicista lo stesso fa le musichette per la pubblicità poi torna a casa e si suona e si siede al pianoforte e scarica la creatività inespressa e il grafico ah vabbè vabbè no continuo a raccontare allora il grafico posso dire parolacce se la prende nel culo perché la grafica al contrario della scrittura la musica il disegno mi piace dire che è un parassita la grafica non può vivere da sola esiste il disegno esiste la musica ma non esiste la grafica la grafica è sempre di qualcosa la grafica della copertina di un libro di un manifesto di un concerto di un album musicale di una felpa che ne so no non esiste la grafica non è che dico ok mi siedo e faccio grafica che cosa io avevo questo bisogno sentivo che uscito da lavoro dicevo mamma mia la monnezza che ho fatto e c'era questo bisogno intimo di voler fare grafica bella quindi ho inventato un format il grafico lavora con le forme e con le parole quindi ho scelto qual è la forma grafica che dà più potere alle parole il manifesto adesso lo sapete anche voi soprattutto il manifesto è sempre uguale quindi mi tranquillizzava questa cosa io ho il mio bel rettangolo verticale bianco e all'interno non dite di no avete letto novecento ecco il rettangolo bianco sono i miei 88 tasti del pianoforte io sono lì all'interno un rettangolo bianco verticale là dentro io posso fare quello che mi pare l'altro pezzo sono le parole quando mi sono presentato e voi avete avuto il cuore di ridere ho detto che non so scrivere quindi ho deciso di utilizzare parole di altri questo signore e signori è il primo mio manifesto è il finale di un libro meraviglioso piccolino scritto da Andrea Frova che è un divulgatore scientifico appassionato di musica ha scritto un libro che si chiama Bravo Sebastian ed è una biografia simpatica di Johann Sebastian Bach e lui come postfazione a questa biografia aggiunge un epistolario tra Johann Sebastian Bach e Sir Isaac Newton erano ovviamente contemporanei Bach tedesco Newton inglese Bach non parlava inglese Newton non parlava tedesco Newton parlava italiano perché aveva studiato a Padova e conosceva i libri di Galileo Bach come tutti i musicisti parlava italiano quindi tra di loro si sono scritti in italiano io ho scelto questa frase che parla del mio approccio bene sono accorto dopo del mio approccio alla creatività e ovviamente ah ve lo dico subito questo scambio epistolare è completamente inventato non si sono mai scritti Newton e Bach è una roba inventata dall'autore a un certo punto stanno parlando per finta delle regole le regole di scrittura come le regole di grafica come in questo caso le regole matematiche e le regole musicali e Newton ha detto nella lettera precedente a Bach ah sì tu sì che fai una musica matematica tutta perfetta e e Bach gli dice non credete tuttavia che la buona musica si faccia rispettando integralmente le regole che vuol dire possiamo fare come cazzo ci pare no perché l'ignoranza delle regole ha tutto è capace di condurre meno che ha la possibilità di infrangerle questa avete il permesso di tatuarvela sulla fronte uno non può fare come gli pare se non sa le regole che sta infrangendo non c'è neanche gusto dal mio punto di vista quindi dicevo questo è il mio primo manifesto non esisteva ancora il nome poi io purtroppo non ricordo come qualche santo protettore delle parole mi ha fatto venire in mente questo naming testi manifesti vi ricordate all'inizio c'era la definizione del manifesto ma manifesti vuol dire anche che sono appunto manifesti e io mi sono innamorato di questa cosa e per citare il nome della rosa se non mi fosse venuto in mente questo nome il progetto testi manifesti non sarebbe mai nato vi mostro qualche esempio c'è qualcuno di Roma infatti vi ho sentito ridere allora l'ATAC è la la marca degli autobus di Roma ovviamente non passano come tutti gli autobus è il mestiere degli autobus non passare questo manifesto perché l'ho messo un po' perché è uno dei primi che ho fatto ma l'ATAC come stile di vita io ho immaginato questa frase è una delle poche frasi che ho detto io no perché come vi ho detto io utilizzo frasi di altri le uniche due volte ve le ho messe tutte e due nella presentazione questa è la prima io ho detto a erano le tre e mezza di notte stavo sotto il Colosseo era tipo il 2013 12 e l'autobus notturno non passava aveva saltato due corse e accanto a me c'era un ragazzo immagino americano e stavamo parlottando lui col suo accento del sud e io col mio terrificante inglese a un certo punto io complice l'alcol me ne sono uscito con Attack Way of Life ed era di notte davanti al Colosseo faceva anche freddo dopo un'altra mezz'ora l'autobus è passato io sono arrivato a casa e secondo voi sono andato a letto oppure ho acceso il computer e ho fatto questo qua perché l'impellenza creativa e l'impellenza creativa regà è inutile che si stiamo a più in giro è bello che mi esce il romanesco dopo tutta questa cosa di stamattina del ticinese eccetera vabbè chi lo capisce allora vi do vi do una mano tu l'hai capito? ah anche quello è uno dei livelli quello è uno dei livelli allora sì la Florida è la Puglia degli Stati Uniti perché la mappa che vedete sullo sfondo è la Florida non è la Puglia da dove viene la frase americani di Bari chi di voi vedeva Pingu da bambino? Pingu e chi di voi lo continua a vedere da grande? allora forse qualcuno di voi è inciampato su un video su una serie di video su youtube che si chiamano Pingu sottotitolato ok ce n'è uno che è Pingu sottotitolato volume 2 dove a un certo punto Pingu dice americani di Bari e anche lì io ho chiuso youtube ho aperto illustrator e ho detto devo fare il manifesto che ho scritto americani di Bari perché ve lo mostro? uno perché è il mio preferito mi piace da morire perché non ha senso e non ha senso e soprattutto questa cosa che vi ho detto che viene da Pingu eccetera eccetera non si vede non ci ho messo Pingu non ho neanche scritto sotto come a volte faccio l'ho preso da Pingu sottotitolato perché non era più quella la cosa che a questo punto posso dirlo apertamente nella mia forma di narrazione perché io alla fine sono su questo palco perché questa è la mia forma di narrazione non era più la cosa che mi interessava era mi interessava il non senso assoluto di americani di Bari e l'ho voluto pompare mettendo la Florida invece della Puglia ultima cosa che vi racconto un annetto fa un ragazzo ha pensato ah ma io so che a Miami c'è una grande comunità di pugliesi pensavo fosse un tuo omaggio a loro e io gli ho detto sì 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 no perché mio cugino anche abita a Miami non ho avuto il cuore di dirgli Pingu sottotitolato ma poi è figo perché io non mi ricordo quali sono le slide che ci sono dopo e allora questa scusate un po' di parte ok conoscete il salone del mobile di Milano questa a sinistra è la grafica dei primi saloni del mobile è stata fatta da un maestro assoluto della grafica italiana che si chiamava Massimo Vignelli per farvi capire il livello del personaggio questo Massimo Vignelli è quello che ha fatto il logo della Benetton piuttosto che tutta la segnaletica della della metropolitana di New York quindi un grafico grosso e ha fatto anche la grafica del salone del mobile di Milano e a un certo punto stavo guardando il Marchese del Grillo se non l'avete fatto guardatelo immediatamente a un certo punto il Marchese del Grillo un film con Alberto Sordi ambientato nella Roma del Settecento sta parlando con con un falegname e la storia lo porterà a non pagare questo falegname quindi il falegname gli mostra il lavoro che aveva appena fatto i mobili che aveva aggiustato e Alberto Sordi io lo ripeterò in maniera assolutamente indegna però gli dice al falegname che aveva appena finito il lavoro bella buasserie sapete che cos'è una buasserie come glielo dico è un tipo di mobile ok una specie di comò bella buasserie bella armadio belle cassa banche bello 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 tutto bravo grazie adesso ne puoi pur andare lo stile di narrazione di acting prima ho detto che il grafico è come un attore è completamente diverso dallo stile del salone del mobile però parlano tutte e due di mobili quindi io non ho potuto non ho resistito dal fare bella cassa banca bella armadio con la grafica del salone del mobile di Milano e ormai questo ha qualche anno la più grande soddisfazione è stata fare attacchinaggio durante il salone del mobile di buh sette anni fa otto anni fa sapete la gente che va al salone del mobile quasi peggio di quelli che vanno al salone alla settimana della moda stare lì che guardano i loro sgabelli da un milione di euro bella cassa banca bello tutto ve l'ho detto che non so scrivere vi racconto un segreto io non so neanche disegnare ci sono delle persone che hanno detto tante cose ok ed è difficile a volte scegliere una frase di una persona di un autore che vi è caro di un film che vi è piaciuto però ci sono i lupi però grazie a Dio a volte queste persone hanno delle facce molto espressive oppure dei lineamenti o una barba che possono raccontare al posto delle parole quindi qui alla fine dopo aver provato proletari di tutto il mondo unitevi no tutte quelle frasi di Marx ho detto senti ma Marx è Marx ho detto vabbè tolgo tutto e ci metto il faccione di Marx e poi il diavoletto sulla mia spalla ha detto Marco ma ti ricordi che non sai disegnare e quindi mi sono buttato mi sono buttato sul geometrico e mi piace mi piace il risultato completamente casuale ve lo giuro però per dire come a volte un'immagine prima abbiamo abbiamo già parlato delle parole della parola scritta della parola che diventa suono della parola che diventa immagine qui è come se rimanesse solo il suono solo l'eco solo la vibrazione del pensiero del personaggio rappresentato ok e quanti anni avevate nel 2001 allora avete presente che cosa è stato per la vostra generazione il covid no per la mia generazione oltre a esserci beccati pure il covid il nostro il uno dei momenti fondativi della nostra generazione io sono nato alla fine degli anni 80 come i vostri genitori è stato è stato il G8 di Genova è difficile raccontarlo in poche parole ma fatto sta che c'era il G8 tanto esiste ancora si chiama G7 quindi c'erano i potenti della terra insieme a Genova e fuori nelle strade c'erano tante manifestazioni ma tante tutti i manifestanti le hanno prese di santa ragione in tutti i modi immaginabili e un ragazzo è morto si chiamava Carlo Giuliani come vi ho detto il manifesto per me è un modo è la mia forma di narrazione ma anche come tutte le forme di narrazione è un modo di narrarmi e però essendo anche sui social perché poi testi manifesti è una roba che vive sui social naturalmente sono mi viene naturale approfittare delle ricorrenze quindi a Natale faccio il manifesto di Natale a San Valentino faccio il manifesto di San Valentino quando arriva quel giorno d'estate ogni volta che si avvicinava quel giorno d'estate io dicevo beh no devo fare il manifesto del G8 di Genova di Carlo Giuliani apro il illustrator apri il mio rettangolo bianco sindrome del foglio bianco nel vero senso della parola sto lì un'oretta dico vabbè se ne parla l'anno prossimo l'anno successivo lo stesso foglio bianco apro Google frasi su Carlo Giuliani la merda vabbè l'anno prossimo l'anno prossimo l'anno prossimo e io a un certo punto mi sono accorto che volevo la cosa importante per me da raccontare era questa mia incapacità nel riuscire a raccontarla lasciare il foglio bianco sarebbe stato eccessivamente artistico no poi io i miei lavori li spiego anche poco sui social mi piace raccontarli in queste situazioni quindi questo è il secondo e per ora ultimo manifesto che contiene una mia frase oggi è quel giorno in cui cerco di fare un manifesto su Carlo Giuliani e niente quindi mi sono accorto che volevo cioè pensavo di voler scrivere mi paragono a voi pensavo di voler scrivere un romanzo su qualcosa in realtà volevo scrivere un romanzo su me stesso però non so scrivere non so disegnare quindi ho fatto una grafica allora come vi ho detto non uso frasi mie tranne quelle due volte negli anni 70 in Italia c'era l'equivalente italiano della rivoluzione sessuale mentre negli Stati Uniti c'erano gli hippie e compagnia bella in Italia andavano di moda tra gli intellettuali di sinistra dei libri di psicologia sulla sessualità e l'importanza di aver di sperimentare le coppie aperte il divorzio non è importante se uno è giovane l'altro è il compagno è più grande tutte queste cose qui completamente fuori dalla tradizione italiana e oltre ad aver portato le battaglie femministe ovviamente oltre ad aver portato a suo modo la rivoluzione sessuale in Italia ci ha donato anche una piccola chicca delle piccole chicche ovvero una serie di film stranamente tutti con Nino Manfredi dove Nino Manfredi ogni volta era un personaggio piccolo borghese eccetera alle prese con con la rivoluzione sessuale c'è non questo ma c'è un altro film ad esempio dove lui fa un architetto dove scopre che la moglie aveva una relazione con un suo collega però lui si atteggia come persona modernissima che legge i libri di di psicologia no e a un certo punto si guarda allo specchio e dice riportando la frase della moglie avevano una relazione di vicinanza si guarda allo specchio e dice vuol dire che scopavano quindi racconta in questi film Nino Manfredi la difficoltà dell'uomo seppur istruito italiano degli anni 70 a fare la pace con questa rivoluzione sessuale scusate il preambolo c'è questo film che si chiama testa o croce che è un film episodi dove Nino Manfredi fa un muratore che ha dei cali di pressione fondamentalmente nel 2023 possiamo dire era stressato sul posto di lavoro lavorava in un cantiere stradale va dal medico della mutua che invece di rendersi conto di quello che ha e magari di guarda fatti una settimana a casa gli comincia a intortare tutto un discorso sulla rivoluzione sessuale perché tu non ti esprimi non esprimi appieno le tue pulsioni forse ti piacciono cose che non pensavi che non ti piacessero ti reprimi ovviamente un muratore non capisce un cazzo di tutti questi discorsi il giorno dopo torna al lavoro e i suoi amici operai gli dicono beh che scusate Balbetto perché nel film il suo collega Balbetta dice beh ma che che ti ha detto il dottore e lui dice me l'ha detto il dottore siamo tutti froci ovvero ha sintetizzato tutto un pippone di mezz'ora che non ha capito in questo modo io ho preso questa frase per raccontare un'altra cosa per raccontare l'integrazione l'integrazione o meglio integrazione è una parola che non mi piace e prima che mi fraintendiate spiego subito uno viene integrato quando c'è qualcuno da una parte io ti tendo la mano e ti integro dove sto io no? io posso integrare uno di voi qui sul palco quindi vuol dire che c'è comunque uno che sta sul palco che integra quindi dice ok tu puoi essere come me ti do il permesso di sposarti e a me questa cosa non è non è il modo in cui mi piace vedere le cose e perché questa frase? perché siamo tutti siamo tutti vuol dire che io non vi tiro sul palco o io non faccio finta di sedermi tra di voi facendo il nato dopo il 2001 dico ok andiamo tutti fuori e stiamo tutti insieme qui nel nel parchetto no? quello è un tipo di integrazione che mi piace trovare un posto dove stare tutti e questa frase mi sembrava un modo molto simpatico e di dirlo e e lo racconto in questo caso anche con la grafica no? perché a parte la solita cosa del rainbow del rainbow però non è solo quello no? vedete come le lettere si sovrappongono perché siamo tutti in qualche modo froci grazie il covid ve lo ricordate? durante il covid stavo a casa come tutti e ho detto vabbè mi faccio un manifesto a tema a tema casa e poi in realtà ne ho fatti una serie se vi va poi andateli a vedere vi faccio vedere il primo che è un con conoscete Roberto Benigni conoscete i film belli di Roberto Benigni e questo in particolare è una frase presa da Il Mostro e non so chi di voi l'ha visto se non l'avete visto fatelo e il protagonista appunto Roberto Benigni vive da solo in una casa di periferia a Roma questi palazzoni anni 80 e a un certo punto la ragazza di cui è innamorato lo va a trovare a sorpresa a casa quindi c'è disordine quindi c'è un piatto di spaghetti in un cassetto c'è un calendario di donne nude al muro e quindi lui si ritrova un po' impacciato a descrivere la sua vita a questa ragazza in cui uno è impacciato quando parla alla ragazza o al ragazzo che ama o che gli piacerebbe amare no? e dice la battuta definitiva di quel film c'è una torta sul tavolo e questa ragazza gli dice ah questa torta l'ha fatta la sua ragazza e no no non sono non sono fidanzato ah l'ha fatta sua madre no e non sono nato che è la battuta del film però io ho messo a fuoco quello che dice poco prima quando la ragazza gli dice ma quindi lei abita da solo lui abita da solo perché è un uomo solo ma per fare il coatto il ganso come si dice a Torino non lo so dice questa roba qua cioè lui è obbligato a stare a casa da solo perché è un uomo solo come noi eravamo obbligati a stare a casa e lui dice vivi da solo sì 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 in un certo qual maniera è una scelta una scelta così di ecco se mi fa se mi va di stare in silenzio sto zitto se mi va di scambiare due chiacchiere parlo da solo se mi va di fare due passi vado vado di là in fondo poi torno di qua poi se mi va una scelta una scelta di libertà ecco io proprio questo qua l'ho fatto il 7 di marzo del 2020 non so voi come stavate messi quel giorno e c'avevo pure il covid tra l'altro e quindi ho raccontato questa storia di solitudine mascherata però alla fine vi ricordate quanto era importante la cosa io resto a casa a quel tempo era proprio una scelta importante comunitaria no e appunto una scelta di libertà quindi il bello è che è molto freddo no tranne l'arancione è un po' freddino questo manifesto molto tecnico però in realtà c'è molto calore una cosa che non vi ho detto testi manifesti è un progetto privatissimo no io racconto cose mie quindi qua c'è tutto il momento in cui io lo facevo c'avevo il computer sulla panza con la coperta con le daghipirine con i miei compilini che mi aprivano un pochino la porta e spingevano col piede le cose da mangiare quindi è molto commovente dal mio punto di vista però mi piace che non si veda dall'esterno vi faccio vedere quest'ultima cosa e abbiamo finito non so scrivere non so disegnare a Natale Emergency mi dice mi chiama Emergency e mi dice Marco ti va di fare le illustrazioni di Natale ho detto scusa ho detto io non sono un illustratore e io ho detto guardate datemi un mesetto e restate datemi un mesetto io ci penso se mi viene qualcosa di decente lo faccio altrimenti amici come prima perché ho messo alla fine questa cosa perché è la trasformazione definitiva della parola la parola smette di essere parola e diventa immagine la parola pace che diciamo mi viene da dire lo slogan di Emergency no? diventa uno stupidissimo alberello di Natale con scritto vabbè vi ricordate bella Buasserie bella Cassapanca belli regali bello Gesù bambino però il valore principale della vita sulla terra mi viene da dire che è questo qui non le renne non i regali non il panettone quindi travestito da albero io ho deciso di mettere la parola pace con scritto sotto appunto la pace va costruita perché uno per far capire il senso dell'immagine ho costruito un albero con le lettere della parola pace ma anche in questo caso c'è una cosa intima io a Natale tassativamente ricevevo i Lego quindi per me Natale e costruire sono sempre stati la stessa cosa quindi mi sono divertito tantissimo ripeto intimamente a raccontare il Natale a raccontare un valore così importante con una cosa così intima e piccola mia Natale uguale Lego uguale rumore della scatola delle costruzioni poi vabbè so grafico ci ho preso la mano ne ho fatti un sacco ma perché mi sono divertito non perché c'è anche e questo vi auguro nel vostro futuro di trovarlo c'è anche divertimento il bello di fare un lavoro creativo oltre al fatto che combacia con la vostra passione e il fatto che ogni tanto vi potete veramente veramente divertire metterci dentro delle chicche che vi piacciono usare una parola che usava vostra nonna per esempio immagino di essere uno scrittore che non sono e nascondere tante cose divertenti ultima cosa vi ricordate Pogliallospiedo era nella terza slide questa A qui è presa da quel carattere lì quindi è la adesiva delle scritte ferramenta parrucchiera che si compravano una volta appunto nelle cartolerie e nelle ferramenta e basta e ovviamente aspettate un attimo mettete mi piace e se avete domande non vedo l'ora di rispondervi potete andare anche fuori tema e avete un grafico a cui potete scroccare e chiedere cose non è una cosa che capita spesso io volevo chiederti se ti senti vincolato cioè quali senti siano i limiti della forma del manifesto cioè se riesci sempre a esprimere quello che vorresti o se per esempio vorresti provare a usare testi tuoi trovi che non riesci comunque a esprimere tutto attraverso un'immagine come una grafica chiaro come avete capito da quello che vi ho detto io sono uno che non sa fare un sacco di cose quindi avere aver scelto una forma limitata come il manifesto ripeto mi viene di nuovo l'esempio di novecento è più facile quando tu hai uno spazio più limitato hai meno possibilità e quindi è più facile da gestire quando tu puoi fare quello che ti pare ti blocchi e quindi per me paradossalmente è estremamente più facile esprimermi soltanto con con quella forma lì addirittura quando vengo contattato non come marco il grafico ma come testi manifesti da dei committenti che mi chiedono cose un po' più borderline rispetto ai manifesti tipo la campagna pace quella di natale di emergency io vado nel pallone e voglio solo morire perché per me scendere dalla nave non volevo citare così tanto baricco che palla è complicato quindi io sono ben contento di rimanere in quello spazio lì mi aiuta tantissimo no e alla fine è anche divertente perché io mi sono trovato a voler dire cose che era difficile dire attraverso un manifesto ok però fare un lavoro di traduzione come abbiamo sentito stamattina equivale anche a capire più a fondo quelle cose no quindi cercando di tradurle e infilarle all'interno di quel manifesto a calci perché non ci vogliono entrare io in realtà le sto capendo di più no quindi mi rendo conto che magari non era vero che le volevo dire oppure che bastava dire una parola e non un pippone lunghissimo quindi lo sforzo combacia col capire più a fondo effettivamente quello che volevo dire e grazie della domanda poi volevo ancora chiederti per te quanto è importante l'aspetto delle persone che vedono il manifesto devono capire quello che io voglio esprimere e quindi poi se secondo te il manifesto almeno il manifesto come lo fai tu è il modo migliore almeno per te ma se vuoi sbilanciarti anche in generale per esprimere qualcosa allora prima parte della domanda devo essere brusco ma a me sinceramente non me ne frega niente e come ho detto testi manifesti è un progetto personale quindi addirittura la mia il mio impeto creativo finisce nel momento in cui ho finito il manifesto ovvero prima ancora di premere salva premere esporta l'immagine premere carica su instagram no quindi io ho finito nel momento in cui l'ho fatto potrei buttarlo paradossalmente quindi per rispondere in maniera più umana mentre lavoro non penso a chi guarderà per parafrasare non baricco questa volta ma il postino il film contro Isi sapete che a un certo punto lui ruba una poesia di Neruda fa finta che è sua per regalarla alla sua amata o meglio per fare colpo sulla ragazza a cui è interessato e dice quando Neruda lo scopre si incazza e il postino o meglio Truisi gli risponde la poesia non è di chi la scrive ma di chi gli serve virgolettato quindi per il verbo va detto così per me è la stessa cosa cioè io una volta che ho finito il manifesto il manifesto non è più mio è di chi gli serve e quindi parte a volte tutta la questione della condivisione che si e condividi nelle storie e condividi su facebook ma anche un condividi il pensiero che c'è scritto sul manifesto e è una cosa che mi piace fare invece tanto non penso a chi vedrà il manifesto mentre lo faccio tanto mi piace guardare le reazioni che hanno le persone mentre guardano i miei manifesti soprattutto nelle mostre per esempio che faccio mi piace guardare per alcuni manifesti in particolare le loro reazioni ve ne racconto uno abbiate pietà non ve lo faccio vedere però per quello che vi devo raccontare importante è la frase e non tanto la grafica in un manifesto che ho fatto ci ho scritto un modo di dire romanesco ma abbastanza utilizzato un po' in tutta Italia c'è scritto tieniti stretto chi ti sbuccia la frutta che è una frase di un dire toccante dire poco parla proprio dell'affetto e dell'amore più incondizionato perché c'è una cosa che se c'è una cosa pallosa nella vita è sbucciare la frutta quindi è importante tenersi stretto qualcuno che te la sbuccia perché vi sto parlando di questo manifesto dopo la domanda che mi ha fatto lui perché quel manifesto è diverso a seconda dello spettatore tieniti stretto chi ti sbuccia la frutta nel mio caso che io che mangio lentamente sono io che sto mangiando ancora il secondo e nel mio campo visivo appare la mano di mio padre con lo spicchio della mela da mangiare quindi per me chi mi sbuccia la frutta è mio padre che mi obbliga a mangiare la frutta che altrimenti non mangerei ma per un'altra persona può essere la madre può essere il fidanzato può essere la moglie per una persona anziana non autosufficiente può essere il figlio può essere l'abbadante oppure una persona a cui veniva sbucciata la frutta poi si ritrova in una relazione in cui diventa lui quello che sbuccia la frutta o va detto magari un qualcuno non ha tipo io adesso non ho chi mi sbuccia la frutta quindi giù banane no e quindi vedete quante quanto è diversa una frase il vero senso di una frase soprattutto come lo uso io così ritagliate così corte a volte veramente ha una ha tantissime sfaccettature a secondo di di chi la legge e quello è piacevole poi parlare quando capita con le persone che guardano i miei manifesti perché a volte non li capiscono a volte lo so che non li capiscono tipo americani di Bari quello non lo capisci cioè te devi di bene se capisci il giochetto Puglia Florida ma l'atti fermi però il gioco è quello è un po' il gioco dell'arte se vogliamo è come i quadri varietà di interpretazioni sia orizzontalmente nel senso che per uno vuol dire una cosa e per uno vuol dire un'altra ma anche verticale nel senso di profondità no chi lo capisce chi capisce tutti i livelli di lettura chi nessuno chi passa e dice ma cazzo che bel colore chi ha scelto no per me va bene tutto sì lì in mezzo e io ti sento ma gli altri no vi autorizzo anche a fare domande di grafica sulle copertine dei libri quello che vi pare la mia domanda non c'entra così tanto più che altro mettendo delle frasi così corte devi lasciare un'idea stampata più precisa hai mai avuto problemi con per l'opinione che magari hai lasciato perché se scrivi un libro l'opinione la puoi sai spiegare esatto la puoi spiegare durante tutto il libro qui stai lasciando un'opinione una frase scritta veloce hai mai avuto non lo so problemi per questo allora nì nel senso oltre a essere un progetto privato testi manifesti mettete mi piace e vive su instagram e su facebook appunto però io non ho mai fatto pubblicità o cose quindi chi segue il mio lavoro mi conosce ok quindi sono follower reali nel vero senso della parola no quindi da una parte la maggior parte mi conosce e quindi sa che se io dico una cosa nessuno mi è venuto a rompere le palle perché avevo usato froci ok ecco cosa che se l'avesse fatto Repubblica in prima pagina gli avrebbero dato fuoco alla sede no e quindi da un certo punto io ho due cose la sincerità e una cosa che è arrivata col tempo grazie alla sincerità una certa autorevolezza no nel senso che chi conosce il mio lavoro e chi mi segue lo conosce sa che se uso froci l'ho preso col contagocce e l'ho messo no e ne ho fatto un altro che non vabbè poi il tempo era poco e mica posso mettere tutti i manifesti che ho fatto c'era un manifesto che ho scritto maledette voi femmine non sapete guidare e chi mi conosce lo sa che non ce l'ho con le femmine che parcheggiano male chi mi conosce molto bene sa che manco io so parcheggiare no quindi è chiaro che il soprattutto con frasi come così corte così precise un valore importante è anche chi le dice no e c'è sempre l'esempio la frase cambia significato a seconda della bocca e per me è un po' la stessa cosa no cioè io vado tranquillo perché so che chi mi segue mi capisce e sono fortunato in questo ho fatto un manifesto con scritto e questo anche per dire cose negative e ho fatto un manifesto che io regalo che c'è scritto Palestina Libera e e da quello mi sono arrivate minacce per esempio e per l'unica volta però capisco la la spinosità della cosa e ho fatto un altro manifesto con scritto sta rottura dei coglioni dei fascisti e e lì e si limitano a rompere le palle nei commenti no però ripeto quelle sono frasi di cui io sono convinto quindi io sto tranquillo cioè non sto sempre a dire oddio che ho detto no anche perché nel nel flusso creativo che mi porta a fare un manifesto io sono completamente nazista con me stesso cioè o sono convinto fino all'ultima punto di quello che ho scritto cioè di quello che ho scelto di scrivere e poi del modo in cui l'ho reso sulla pagina oppure non lo pubblico io c'è una cartella con 300 manifesti non pubblicati e alcuni perché non trovavo il colore giusto altri invece c'è il foglio bianco con la frase incollata no e quindi anche questa molto forte scrematura che ho all'inizio funge da protezione rispetto a queste cose poi è chiaro nei due esempi che ti ho fatto a un certo punto di vista me la sono pure andata a cercare qua davanti e qua davanti hanno alzato la mano ah scusa non ti avevo visto sei lo stesso che stava al buio pure prima forse un po' generica però sulle intelligenze artificiali raccontaci un po' allora intanto che culo i grafici per adesso non sono stati intaccati da perché evidentemente è un lavoro così di merda che neanche l'intelligenza artificiale si vuole mettere a fare no però al di là della battuta sul mio lavoro non so se avete notato spesso nelle immagini intelligenza artificiale una volta si capivano perché avevano sei dita no se andate a notare molto spesso ancora non sono capace di fare le scritte le lettere no perché giustamente loro pescano io per dovere di interazione ne parlo come se fossero delle entità reali di coloro però vabbè pescano da tutto internet quindi c'hanno il cirillico c'hanno l'alfabeto italiano c'è europeo occidentale l'arabo eccetera quindi non sanno ricostruire ancora dividere una A da una M da una O eccetera quindi le scritte ancora non le sanno fare no però a domanda generica risposta generica io sono molto aperto nel senso che intanto lo vedo come uno strumento e come tutti gli strumenti non sto scoprendo l'acqua calda l'importante è come si usa no quindi lo rivedo per la millesima volta non so scrivere io ogni volta che devo scrivere qualcosa me la faccio scrivere dall'intelligenza artificiale e poi la riscrivo io perché così se c'ho una cosa su cui appoggiarmi dico ok devo dire queste cose quindi io la uso per esempio in questo senso no oppure l'altro giorno ho stampato una fotografia che ha fatto un mio amico l'ha fatta al volo col cellulare era tagliata di merda da sopra quindi io con l'intelligenza artificiale ho ricostruito un pezzetto di cielo che mi serviva quindi strumento positivo tutta la vita no problem è chiaro che non mi addentro nella questione legale dell'utilizzo delle immagini soprattutto perché non sono esperto ok quindi c'è un grosso elefante della stanza dal punto di vista delle immagini generate con l'intelligenza artificiale che è legale e che è un grosso problema su cui però più dirti che è una cosa grave e grossa non so dirti però mi viene anche da dire sempre dal punto di vista della positività nei mass media eccetera nei discorsi un po' che vengono fatti mi sembrano un eco di quello che veniva fatto nell'ottocento quando è nata la fotografia ah i pittori non lavoreranno più io dico i pittori di merda non hanno lavorato più monè continua ad essere monè le immagini figurative sono rimaste e hanno preso un'altra strada e dove viene io ho notato dove viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella creazione delle immagini ovvero per lo meno il posto dove io la vedo di più utilizzato ovviamente anche male nelle copertine dei video youtube no perché così il content creator non c'ha cazzi legali non sta usando un'illustrazione di Alan Lee per fare un video su tolkien ha scritto Gandalf contro il balrog all'intelligenza artificiale alla tirata giù e ci ha fatto l'immaginetta su su youtube perché ho fatto questo esempio viene utilizzata intanto in un contesto veloce no ma soprattutto da un un utente che della grafica non se ne frega un cazzo no di un'illustrazione fatta bene non se ne frega un cazzo un po' perché non se ne frega un po' perché è inutile no tu se in un video di approfondimento su Oppenheimer no chiameresti mai un illustratore per farti fare un illustratore capito quindi secondo me da un lato è presto per parlarne bisogna si deve stabilizzare secondo me la cosa e mi preoccupa di più l'intelligenza artificiale nella lavorazione dei dati sensibili delle persone e quella roba lì mi preoccupa ma come può preoccupare chiunque non è il mio mestiere quindi non so non so dirti dal punto di vista artistico secondo me può essere un'opportunità come si diceva questa mattina no un traduttore ti spinge a essere un traduttore migliore no e quindi un un'intelligenza artificiale di immagini generative ti spingono a diventare un illustratore migliore ma non tanto a fare il disegno meglio perché tanto l'intelligenza artificiale lo fa meglio di te ma siccome l'intelligenza artificiale mangia quello che l'umanità ha fatto fino adesso tu devi cercare di fare cose ancora non fatte perché l'intelligenza artificiale non si può immaginare cose che non gli sono state date in pasto quindi mi ripeto è stata detta la stessa cosa stamattina bisogna cercare di andare un passo avanti all'intelligenza artificiale e utilizzarla il giusto se si è capace di farlo l'applauso dei robot qui davanti avevano alzato una mano ci avevi ripensato sì in realtà sì però poi ci ho ripensato vabbè comunque il microfono quindi te lo chiedo in realtà hai un po' risposto già però ci ci terrei perché secondo me è importante farti una domanda esplicita cioè io a livello astratto c'è la mia testa quando sento la parola manifesto la collega giornale che leggeva mia mamma da bambina quindi quanto per te è forte il legame che c'è fra il manifesto e il manifestare eh sì cioè non è solo non è solo lessicale ok ti ricordi quando ho detto l'urlo silenzioso no in un certo senso i miei manifesti sono manifestare senza andare alla manifestazione e anzi spesso e volentieri oddio adesso grazie a Dio sto ritornando ad andare alle manifestazioni perché eh ho smesso di lavorare in ufficio quindi non devo prendere le mezza giornate di ferie per andarci però eh quando io vado ad una manifestazione ok ci vado io mi vesto mi metto il giubbotto scendo eh e vado alla manifestazione vado da da piramide al colosseo a Roma oppure no mi faccio i miei cinque chilometri di manifestazione insieme a tutti gli altri e finita torno a casa una cosa in attesa dei miei manifesti è che mi hanno fatto diventare multiplo nel senso che io vado alla manifestazione ma i miei manifesti vanno alle manifestazioni per conto loro eh perché alcuni in particolare quello di cui ho parlato prima della Palestina o sarò attore dei coglioni dei fascisti quelli lì sono anche scaricabili gratuitamente quindi se uno se lo vuole stampare anche se siamo tutti feroci cioè ai gay pride è pieno e quindi io magari vado al gay pride di Roma ma contemporaneamente sono anche non una più volte a quello di Bologna no quindi è assolutamente non solo etimologico il collegamento tra manifesto e manifestare sempre per per quella anche per quella questione di sincerità no e io ero un bambino silenzioso no come ce ne sono tanti e ho trovato il mio modo di parlare quindi assolutamente sì e grazie della domanda anche se non la volevi si c'avevi di benza applausi